Ciao a tutti pandine e pandine, oggi siamo qui per un nuovo video. Devo dire che se voi volete che io vi faccia pubblicità, me la dovete scrivere qui sotto nei commenti, non ve la farò volentieri. Anche voi volete farmela, non c'è problema, anzi sono molto contenta. Niente, noi ci vediamo al prossimo video, bacione!